Musica Ben ritrovati a questa nuova edizione del Tg di Venezia. Anche per la prossima settimana il vento resterà in zona alto rischio, pur avendo l'RT in lieve calo 1,25. Terapia intensiva e aria ospedaliera non critica rimangono sotto controllo. Con questa tendenza la speranza è quella di ritornare in zona arancione, con la conseguente riapertura di alcune attività commerciali e di ritorno a scuola. Ieri Zaia, durante la consueta conferenza stampa, ha annunciato la possibile ordinanza che vieta a chi vive fuori regione di raggiungere la seconda casa in Veneto. Ascoltiamo. ...questo aspetto, però lo valutiamo soppesandolo 20.000 volte perché per noi sono sacri i nostri ospiti, cioè sono sacri coloro che hanno scelto e eletto il Veneto come seconda terra, come seconda casa, perché poi chi realizza un'abitazione o si compra una casa in Veneto è perché ama il Veneto. E quindi abbiamo anche questa delicatezza nell'approccio. Io non faccio parte di quei colleghi che pensano che i turisti siano un problema. Non mi sto riferendo a chi ha fatto l'ordinanza, però è giusto soppesare per bene questa scelta perché poi comunque siamo la regione più turistica d'Italia. Adesso vedremo, lo sta valutando anche la prevenzione e ve lo valutiamo fino in fondo. Molte aziende del Nord hanno dato adesione alla campagna vaccinale mettendo a disposizione i loro capannoni e uffici. Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, ha annunciato che le trattative del protocollo fra Palazzo Balbi e le associazioni di categoria potrebbero concludersi già dalla prossima settimana. Gli aspetti tecnici ancora da risolvere riguardano il medico che dovrà effettuare la vaccinazione, l'ordine di priorità delle aziende e il criterio di immunizzazione delle persone. Anche la dottoressa Russo e l'assessore alla sanità Manuela Lazzarin ricordano l'importanza del protocollo d'intesa con le varie associazioni. La delibera prevede, come se vi ricordate, la possibilità di effettuare quindi le vaccinazioni qualora ci dovessero essere i vaccini all'interno delle aziende e noi nel nostro deliberato abbiamo anche esteso di estendere, scusate il gioco di parole, di estendere anche ai familiari parenti che rientrano nelle categorie, nelle corti d'età che sono previste dal nuovo piano, ossia 60-80 anni, scusatemi, i 20 anni che ci mancano, di estendere anche a questi. Ricordiamolo che il protocollo che noi abbiamo adottato arriva anche a seguito dell'inserimento di questa possibilità all'interno del nuovo piano nazionale di vaccinazione. Dopo il via Libra di EMA al vaccino AstraZeneca è ripresa l'attività vaccinale. Il direttore generale dell'Urs4, Mauro Filippi, ha ribadito che uno dei due lotti di vaccino AstraZeneca non è mai stato ricevuto e pertanto somministrato. Il secondo lotto non ha provocato particolari effetti rilevanti, se non simili influenzuali. Siamo sempre in lieve ma costante crescita. Oggi abbiamo 146 nuovi casi, ieri ne avevamo un po' di meno e quindi è un'oscillazione del più o meno 10%. Complessivamente siamo oltre i 1500 casi in tutto il territorio, quindi la curva lentamente ma continua a crescere e quindi rimane alta la nostra attenzione rispetto all'andamento di questo fenomeno. Speriamo che con la chiusura delle scuole e la lockdown si possa rapidamente arrivare a una stabilizzazione e poi finalmente anche a un calo dei soggetti positivi. Sono terapie che vengono riservate a persone seguite a domicilio, sintomatici con patologie croniche quindi cardiopatici, diabetici, con insufficienza renale, che vengono segnalati dal medico di medicina generale normalmente entro 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, meglio se entro i primi 5 giorni e poi vengono indirizzati all'ospedale di Jesolo, il nostro ospedale Covid in questo momento dove eseguiamo questo tipo di trattamento che dura un'ora per paziente, una volta soltanto. Dopo un'ora di somministrazione c'è un'ora di attesa all'interno dell'ambulatorio dedicato e poi la persona può rientrare a casa. È un trattamento importante perché consentirà di migliorare la condizione clinica di queste persone che sono a casa e anche evitando per alcuni casi di dover poi ricorrere al ricovero in ospedale. Ricercato dal 2019, questa mattina a Favaro Veneto i carabinieri hanno arrestato Robert Octavian Radion rumeno di 21 anni, accusato di evasione dai domiciliari, accaduta il 9 febbraio scorso e rapina a mano armata avvenuta a settembre 2019 nella sala slot di Spinea. Stamane i carabinieri del Norm e della stazione di Favaro Veneto sono entrati nell'abitazione in cui aveva trovato rifugio e hanno scoperto più di 3 kg di marijuana, un bilancino, una pistola Beretta Calibro 7,65, 25 munizioni, un passamontagno, documenti di identità e guida falsi e 650 euro in contanti. Alle pendenze precedenti si sono aggiunte le accuse di detenzione di droga e fin di spaccio, detenzione illegale di armi, possesso di documenti falsi e ricettazione. Ieri sera è stata avviata la 26esima edizione della giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie che quest'anno è intitolata a ricordare e rivederle stelle, cultura e memoria. L'iniziativa, accolta molto favorevolmente dal Comune di Venezia, ha avuto inizio ieri sera alle 19, proiettando sul campanile di Piazza San Marco i nomi delle vittime e delle mafie. All'inizio della cerimonia la Presidente del Consiglio Comunale, Damiano, ha ringraziato l'Associazione Libera e tutti i suoi rappresentanti per l'impegno nella lotta contro le mafie. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, e il referente regionale dell'Associazione Libera, Roberto Tommasi, hanno sottolineato la necessità di non abbassare l'attenzione sul rischio di infiltrazione malavitose, soprattutto in questo periodo di crisi economica. Il Comune di Venezia ha deciso, su proposta di Libra e avviso pubblico, di lasciare un segno visivo nei luoghi intitolati alle vittime delle mafie. Infine lo sport, domani sera a Trieste, l'Umana Reier affronterà Allianz Palla Canestro, Assenti Bramos, Possamai e Dei, che giovedì scorso in allenamento ha subito un infortunio al ginocchio. Vidmar e Cerella, forse non disponibili. La squadra femminile, dopo la qualificazione alle Final Four di Eurocup, tornerà in campo lunedì al Tagliercio contro Vigarano e poi mercoledì sarà presente a Bologna. Con questa notizia è tutto, io vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!